Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita, oggi siamo su Rogue Wizards, un gioco della Spellbound Studios, un gioco davvero molto simpatico che non mi aspettavo, ho scoperto per caso, è il classico dungeon crawler a turni, ben fatto dal punto di vista grafico, andiamo a vederlo, non ci ho giocato tantissimo, ho superato quello che era il tutorial, quindi credo di sapervi dire abbastanza sulle meccaniche di gioco. La storia è la solita minaccia che colpisce il mondo, ci sono 6-7 elementi, tra cui la natura, il ghiaccio, il fuoco, il cielo, il cosmic e la terra, che regolano in automatico anche i nostri incantesimi. Noi abbiamo questo eroe che tramite questo rift centrale andrà a compiere le varie missioni. Vi faccio vedere, questo è l'hub iniziale dove noi potremo andare, prima di tutto qui, e salendo di livello guadagneremo degli spell points e potremo aumentare i nostri incantesimi. Noi abbiamo al momento solo la palla di fuoco, abbiamo trovato questa pergamena, ne troveremo anche altre nel corso della nostra avventura. Vedete qua, meteora, la possibilità di upgradare, una volta raggiunto il rank 10 della palla di fuoco, ottenere la meteora, e così via anche gli altri. Qui invece abbiamo lo shop, in cui noi possiamo andare semplicemente a parlare, quindi ottenere informazioni con il venditore, oppure andare direttamente ad acquistare. In questo caso lui ci vende questi crimson ash, queste polveri, che ci servono per alimentare i nostri incantesimi. Infatti ogni incantesimo che noi possediamo richiede dei reagenti. Qua invece abbiamo la locanda. Vedete, molto interessante il fatto che noi possiamo portarci dietro. Io ho trovato questa specie di granchio in un dungeon, mi ha seguito e mi ha combattuto insieme a me. Ovviamente questi pet, questi compagni, si stancano e finita una missione abbiamo bisogno di attendere dei minuti per poterli riprendere con noi. Questo timer ho notato che prosegue col PC. Mi segnava 16 minuti prima, adesso segna 6, quindi lui prosegue anche a gioco spento. Niente, qui abbiamo la possibilità di far riposare i nostri compagni pet. Qua invece questo edificio a forma di forziere ci consente di mettere al suo interno degli oggetti che noi non vogliamo perdere e vogliamo conservare. Cliccando invece sulla parte centrale possiamo andare a vedere le missioni che ci vengono affidate. Allora, abbiamo questa missione, il dungeon dei segreti. Allora, la specifica di questo gioco è il fatto che nessun dungeon è uguale al precedente e sono tutti generati, mi prudono le mani a dirlo, procedurialmente. Allora, il gioco comprende prima di tutto, prima di cominciare, due modalità. La modalità storia che stiamo facendo e la modalità sopravvivenza. La sopravvivenza è andiamo avanti fino a quando sopravviviamo, vediamo quanto riusciamo a resistere. Mentre invece la difficoltà di gioco che gestisce queste due modalità è la normale, che nella storia significa quando muori torni in città, la hardcore, quando muori è finita. Allora, la quest, la quest è questa, distrugge il rift e porta l'amico di Mernol ad Antarit. Va bene, cominciamo e vi faccio vedere come funziona il gioco. Gli oggetti che noi troviamo possiamo venderli. Allora, il gioco è graficamente, allora, per quanto non sia innovativo a livello di meccaniche, è molto bello graficamente. Tuttavia, se non vi prende un attacco epiletico riuscite a giocarci, perché, guardate, si genera un po' con lo stile di Bastion, forse. Ecco, qua abbiamo il primo nemico, non ci sta seguendo il nostro pet, quindi a questo punto noi possiamo combattere in diversi modi. Allora, abbiamo la spada, che ci fa 21 danni, però è corpo a corpo. Abbiamo questo, il Chakram di Xena, forse, che ci consente di attaccare più nemici insieme. In pratica, se ci fosse stato un nemico qui e qui, oppure un nemico qui e uno qui e una cassa, lui avrebbe colpito uno, due, tre e anche la cassa. Qua abbiamo gli incantesimi di Palla di Fuoco, che ci consumano due Crimson Ash. Guardando l'inventario, noi possediamo sei, chiedendocene due riusciamo a lanciarlo tre volte, dopodiché siamo a secco. Questi Crimson li compriamo dal vendolo, come abbiamo visto, oppure li troviamo combattendo. Abbiamo anche il bastone, che ci fa del danno, però ci richiede della power. Oppure, ecco l'arco, che richiede uno di finesse, adesso andiamo a vedere, e la lancia. Altro da vedere in questo menu. Quando noi troviamo degli oggetti, ci vengono automaticamente equipaggiati. Possiamo indossare in testa, sul corpo, mano primaria e secondaria, in questo caso abbiamo uno scudo, un amuleto, gli stivali e l'anello, che ci dà difesa uno. Qua possiamo vedere lo Spellbook, con tutti gli incantesimi conosciuti. Qui invece abbiamo lo Spelltree, che è quello che abbiamo visto prima, che abbiamo potenziato alla Torre di Magia. Quando noi invece livelliamo, qua in alto, infatti, sulla destra vedete la vita, e qua la barra dell'esperienza, possiamo aumentare, spendere un tot punti per aumentare la power, appunto, che amplifica il danno degli item, e la magia, la finesse, che aumenta la possibilità di bloccare degli attacchi critici, disarmare trappole e trovare segreti sulla mappa. La stamina, invece, aumenta la vita e l'abilità di assorbire il danno. Qui invece abbiamo un riassunto della nostra vita, la nostra difesa, e la possibilità di bloccare il danno, e la possibilità di fare un danno critico. In questo caso iniziamo con questo danno qui. Abbiamo speso un turno, vedete che lui ha fatto un passo avanti. Ok, no, fa molto male. Proviamo ad attaccarlo così. Ok, l'abbiamo abbattuto, prendiamo del denaro. Proseguiamo, vedete che il caricamento è tutto fatto così. Allora, vediamo un po'. No, sarebbe il caso di fare una cosa di questo tipo. Vediamo se riusciamo. Vedete, abbiamo fatto danno tutti e tre. Ci stanno però picchiando proprio di... Male, proprio male, 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 male. Aia! Eh, questi che stanno facendo precipitare... Pala di fuoco. Ok, prima è andato. Ci beviamo una pozza. Non voglio parlare proprio in linguaggio nerd. Allora, vedete, sono già caduti dei Crimson Ash. Combattendo, andiamo a recuperarli. Un'altra cosa importante sono le chiavi. Le chiavi ci consentono di aprire i forzieri che noi troviamo lungo il nostro cammino. Recuperiamo, abbiamo la chiave, la usiamo. E troviamo all'interno un cappellino nuovo. Allora, questo cappellino ci ha difesa 13 e Brut Rank più 2. Non direi che lo prendiamo, lo usiamo, aumentiamo la difesa. Proseguiamo. Ecco, se, ripeto, se riuscite a superare lo scoglio di questo caricamento così procedurale, il gioco è davvero figo. E' fatto bene. Ok, allora, non abbiamo più possibilità di... Combattere. Eh, ci hanno ghiacciato. Di combattere con la palla di fuoco. Però, vabbè, proseguiamo. Abbiamo anche l'arco che ci consente un attacco a distanza. Magari, eh... Eh, merdacce. Attacchiamo con l'arco. Eh, non gli fa proprio un cazzo come danno, eh. E' da essere che la spada, quella che fa più danno di tutte. Vabbè, eh... E' tosto, eh. E' tosto questo... Ho detto che voglio la spada, devo premere il tasto 2. Ok. E sono pirla io. Ma prima beviamo una pozione. Ok. Ok, eh, sì, direi che fa proprio un bel danno. Ricorda molto anche Dungeon Rusher. Per quanto Dungeon Rusher era forse ancora più tattico. Ok. E abbiamo lì delle scale per poter scendere al piano di sotto. Non siamo messi proprio benissimo. Perché questi sono nemici proprio forti, devo dire. Mi stanno mettendo abbastanza in difficoltà. Soprattutto non avendo la magia. Pozione. Però, a livello di grafica, credo che sia davvero molto bello. Ricorda tanto anche giochi browser, giochi comunque giocabili da browser direttamente. Abbiamo trovato altro. L'esperienza sta salendo piano. Possiamo aprire e distruggere le varie botti, le varie casse. Un po' la Zelda. Qua siamo tornati alla sala principale. Finiamo di esplorare qua, magari. Ok, direi che abbiamo visto tutto. Possiamo lanciare ben una palla di fuoco. Premendo qui, possiamo andare a vedere la mappa che abbiamo esplorato finora. Comunque direi che è giunto il momento di scendere al piano di sotto. E vedere che cosa c'è lì. Scendi le scale. E sicuramente è d'atmosfera anche la musica. Questo chi è? Salve. Ok. Abbiamo i dialoghi. Ok. Abbiamo un compagno e lì c'è qualcuno che vediamo. Ok. Ci vende degli oggetti. Vedete che alcuni oggetti hanno anche questi due cerchi, che sono due slot di potenziamento. Perché nel corso della nostra avventura avremo possibilità di trovare delle rune da mettere all'interno e addirittura con i vari materiali che noi troviamo in giro per l'avventura possiamo anche craftarci dei componenti ottenuti quindi combinandone altri. o potenziamenti direttamente per quel pezzo di armatura specifico o addirittura dei pezzi di armatura nuovi. Allora, lì abbiamo una spada nuova. Se potessimo, grazie, ok, ci saranno di legnate, ma direi che questa potrebbe, Xina qui potrebbe anche darmi una mano, ma lo sta già facendo a modo suo. Oh sì, dai, col suo chakra, mamma mia. Vabbè, vabbè, vabbè. Picchia! Continuo, sono un cane io a giocare. Ok, abbiamo trovato un po' di bella rovetta. Doppio, ok, allora, spada, spada. Ok, allora, vediamo un po'. Gestiamo ovviamente il nostro eroe, non l'altro. Abbiamo trovato questa spada che ci fa 68 danni, vediamo un po', la equipaggiamo. Eh sì, passiamo a 70 danni, adesso direi che potrebbe anche valerne la pena. Questo, Buckler, è 48 di difesa contro i 39, sì, direi che equipaggiamo anche questo. Difesa 3, la moneta qui, difesa 3 sono identici e basta direi che l'anello invece ci dà difesa 3 e forse è meglio ed è anche upgradabile con due rune. Allora, andiamo avanti. Tiene una botte qua sul... Vabbè, abbiamo preso un po' di roba. Hanno un po' rotto i coglioni. Comunque, diamo un'occhiata al nuovo danno. Ah, dà anche danno da fuoco. E infatti, 9% di possibilità di colpire il nemico con il fuoco. Allora, puoi... Eccolo lì, bravo. Abbiamo trovato anche un'altra tunica che probabilmente ci dà, infatti, un per cento di possibilità di trovare item di oggetti, oggetti magici. Difesa... Body armor... Ok, dai, diamo un'occhiata se ci cambia la difesa che adesso è 50, 62 direi proprio di sì che stiamo salendo abbastanza spediti. Ci beviamo l'ultima pozione? Mmm, sì. Ok, stanno dicendo che forse la pozione ha curato entrambi. Vabbè. Ok, cos'è questo? Ok, è un waypoint, quindi possiamo teletrasportarci da un waypoint all'altro. Allora, lì abbiamo esaminato tutto, non saprei dove andare. Proviamo a vedere qui che c'è un'altra stanza. È veramente interessante e anche ben fatto come gioco. Quindi, valutate. Adesso, io non ho presente, non mi ricordo, quanto costi su Steam. Presente su Steam, ovviamente. Ok, allora, abbiamo trovato forse qualcos'altro. Ah no, queste sono le lettere che noi troviamo che ci mandano avanti, un pochino ci danno... Ad esempio il tutorial è un mago che ci manda in un dungeon per mettere alla prova la nostra abilità. Beh, io non ho paura di nessuno perché questa spada fa un botto di danno. Io continuo intanto a recuperare anche dei Crimson. Xena qui continua a fargli danno a distanza. Io devo avvicinarmi ogni volta e quindi vengo rispedito indietro dai massi che fa cadere. Ok, forse ce la facciamo ad attaccarlo. Ok, ce l'abbiamo fatta. Attenzione, questo è una sorta di omino di Goblin che si vedevano anche su Diablo. Adesso mi hai riletto il coglione. Ok. Quelli che comparivano... Eh, merda! Andavano uccisi prima che scappassero col bottino, insomma. Quindi, peccato, peccato. Abbiamo avuto un po' di sfortuna. Palla di fuoco. Molto bene. Eh, adesso... The power! È un po' limitante il fatto che dobbiamo usare dei materiali, ma anche giusto perché... Se no saremo hyper power. Basti vedere cosa stiamo facendo ora. Abbiamo trovato un altro waypoint. Palla di fuoco ancora perché non ho più pozioni e fino a quando non ne trovo una direi di usare questa. Ok, perfetto. Non stiamo più subendo danno. Speriamo di livellare presto, anche se in realtà credo non lo vedremo in questo episodio, dato che non siamo nemmeno a metà. Continuiamo ad avanzare. Ci siamo fatti comunque anche un'idea di quello che il gioco ha da offrire. Non abbiamo più incantesimi, ma forse riusciamo a colpirlo. No, ci hanno ghiacciato. Olè. Ucciso. Un altro amostro anche qui. E una porta. E poi la stanza prosegue di qua. Andiamo, dai. Sì. Ti dai la mano? Grazie. Ok, prima è andato. Non ho mai visto una donna combattere così bene. Mio padre era un generale. Mi ha incoraggiato a combattere. Ti ha insegnato anche la magia? No. Ah, le donne non è permessa la magia. Ok, ok. Ok. Oh, oh. Se riesco a uscire ne vivo, vi mostro anche... Devo uccidere quello prima che mi lanci addosso le... Ok. E non sono messo proprio benissimo. Però se sopravvivo, vi permetto che vi mostro anche il calderone. Ok. Ok, eccolo qua. Possiamo creare, craftare, usando dei Cranesom Ash. Vuol dire che o ne usiamo tot per usare gli incantesimi, o gli spendiamo, ne spendiamo 10 per farci una pozione di vita. Oppure, a nostra volta, possiamo creare direttamente dei Cranesom Ash, usando i Terrestrial Silt e i Cosmic Dust. Che a loro volta possono essere creati da... Quindi qui abbiamo tutti gli estratti che possiamo craftarci con questo calderone. Vabbè, vabbè. Ragazzi, questo qui è Rock Wizards. Lo abbiamo visto così a grandi linee. Spero di essere stato comunque preciso nello spiegarvi. Spero voi abbiate capito che tipo di gioco è. Non lo definirei propriamente un passatempo. È un gioco che sa comunque prendere e che vi appassionerà. Non è il classico gioco da 50 ore. Ma è davvero un ottimo intrattenimento fatto assolutamente bene. Intanto ce ne stiamo andando lentamente, senza possibilità di replica. Allora, abbiamo una porta e la possibilità di scendere. Ecco, la porta non è stata una grande idea. Moriremo. Infatti, siamo morti e ce ne torniamo direttamente in città. Rinascendo qui, poi noi dovremo andare a rifare nuovamente il dungeon. Che, tra l'altro, era una difficoltà non troppo alta. Comunque, ecco, questo è il gioco. Non mancate, come al solito, di farmi sapere le vostre impressioni. Se il video vi è piaciuto, se il gioco vi piace. Se lo conoscete già, l'avete già giocato o avete intenzione di acquistarlo. Soprattutto dopo aver visto questo video. Sarebbe una grande soddisfazione per me. Alla prossima, ragazzi. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.